Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda una serie di video riguardante il nuovo Battletomb dei DEF, Soulblight Cavers. Dato che c'è molto da dire ho deciso di realizzare dei focus per ogni parte per quanto riguarda questo Battletomb, in modo che possiate andare a vedere quello a cui siete interessati senza creare un unico video gigantesco. Quindi vi invito ad andare in descrizione e trovare la playlist all'interno della quale troverete la serie di video e quindi potete andare a trovare il video che vi interessa maggiormente. E ora possiamo cominciare ad andare a vedere quindi il focus per quanto riguarda le abilità dell'Alleanza. E per quanto riguarda queste abilità dell'Alleanza, questi tratti di battaglia, una cosa da dire è che sono in comune a tutte le legioni o dinastie che andremo a trattare in focus dedicati. Questo perché ogni alleanza e ogni dinastia avrà le proprie abilità dell'Alleanza specifiche ma avranno anche queste di questo video in generale. Quindi comunque saranno presenti anche queste. E questa è la cosa interessante perché non dovremo più andare a vedere ogni volta nelle varie alleanze o nelle varie dinastie tutte le regole che sono comunque in comune a tutte quante ma avremo un posto dove sono tutte quante e poi potremo andare a vedere quelle specifiche per quella dinastia o alleanza. Tant'è che il primo tratto di battaglia che andremo a vedere riguarda proprio le linee di sangue maledette. Ed ecco che quando andiamo a scegliere un'armata di Sublight Gravelords possiamo o meglio dobbiamo perché è un must cioè è un dovere scegliere la keyword della linea di sangue che andremo a ottenere. Quindi dobbiamo assegnare la Legion of Blood, Legion of Night, Virkos Dynasty, Castelai Dynasty oppure la Avengory Dynasty come keyword per tutti i modelli che andranno a far parte dell'armata che andremo a scegliere una volta selezionata appunto la linea di sangue. E questo però va tenuto in costituzione anche un'altra cosa che se un'unità ha già una keyword per una determinata linea di sangue potrà comunque essere inserita all'interno dell'armata che andremo a comporre anche se questa apparterà a un'alleanza totalmente diversa ma non potrà beneficiare dell'abilità dell'alleanza dell'alleanza della Legion of Blood. Quindi facciamo conto che dobbiamo inserire un modello con la dinastia Virkos ecco che in questo caso potremmo inserirlo per esempio in una Legion of Blood. Questo potrà essere inserito senza alcun problema. Beneficerà di queste abilità che abbiamo in questo video tutte quante perché sono in generale ma non potrà usare le abilità dell'alleanza della Legion of Blood. Quindi sarà limitato in quel senso ma comunque potremo inserirlo. Questo permette da un lato avere molta varietà quindi potremmo creare molto liberamente la nostra lista però dobbiamo fare attenzione a quella che è la sinergia dell'unità all'interno della lista stessa che andremo a creare. Quindi è da tenere in considerazione questo perché permette libertà ma dobbiamo fare anche attenzione a come andremo a gestirla. E poi abbiamo un tratto di battaglia specifico per Nagash che è Supremo Lord dei Non Morti. Questo perché come abbiamo già visto anche in un altro video la Vosco di Nagash presente nel il button dei Soulblight Gravelers è la stessa che è presente nel button degli Ossiak Oribas. Questo fa sì che Nagash in cui la Vosco non abbia la keyword Soulblight Gravelers. E come abbiamo visto nel tratto di battaglia per quanto riguarda le linee di sangue maledette i modelli che hanno la keyword Soulblight Gravelers possono prendere anche l'alleanza che è corrispettiva quindi l'alleanza con la linea di sangue maledetta. Ecco che quindi grazie a questo tratto di battaglia Nagash può prendere la keyword Soulblight Gravelers e può prendere quindi le abilità che sono trattate per quanto riguarda la linea di sangue relativa o meglio la linea di sangue maledetta che andremo a utilizzare. Inoltre Nagash verrà trattato come essere generale in aggiunta al modello che si sceglie essere generale per quanto riguarda l'armata per cui è come avere due generali letteralmente perché avremo i generali scelto più Nagash che verrà trattato come generale pur non essendolo. Inoltre bisogna anche ricordare che se si inserisce Nagash non si potranno aggiungere truppe mercenari e la propria armata quindi si potranno sia avere alleati ma non mercenari quindi qualora andessimo a introdurre Nagash nella propria armata bisogna ricordarsi di questa limitazione per quanto riguarda le modifiche e la composizione dell'armata stessa. E poi abbiamo il tratto di battaglio morti inquieti questo è cambiato rispetto a quello che abbiamo già potuto vedere nel precedente battle tome dei legends of Nagash infatti non siamo più dipendenti per applicare questo tratto di battaglia dall'avere un death hero nei dintorni ecco che quindi dopo aver scelto i propri territori ma prima che le armate vengono schierate sui campi di battaglia si può scegliere fino a due punti nel proprio territorio e altri due punti fino a altri due punti ovunque sui campi di battaglia che non sia nel proprio territorio. Vi voglio ricordare che il territorio non corrisponde a zona di schieramento e questi diventeranno essere dei grave sites quindi diciamo dei cimiteri dei punti di segnalino o tomba che possono essere utilizzati ecco che però ognuno di questi grave sites deve essere a più di un pollice da qualsiasi elemento scenico e dagli obiettivi quindi questo fa in modo che non sia possibile per esempio mettere direttamente segnali su un obiettivo per andare praticamente a controllarlo in modo automatico quindi bisogna tener conto che ci deve essere un pollice a distanza da questi e questo permette come segnalini di poter mettere un'unità che abbia la keyword soblight grave lord summonable e invece di schierarla sul campo di battaglia prima della battaglia si può scegliere di metterla in riserva come proveniente appunto dalla tomba del segnalino questo va ricordato che si può fare se sia già un'unità che si schiera sul campo di battaglia quindi solo fino al massimo 50% delle proprie unità perché deve esserci già il corrispondente o almeno un'unità schierata può essere messa nella riserva quindi comunque è molto strategico ma dobbiamo tener conto che c'è questo limite che è uno a uno al massimo ed ecco che alla fine di un qualsiasi propria fase di movimento si può fare in modo di schierare sul campo di battaglia una o più di queste unità che sono state messe in riserva a patto che siano totalmente entro 12 pollici da uno di questi segnalini e a più di 9 pollici da un'unità nemica ecco che questo va anche a essere ricordato se all'inizio del quarto turno di battaglia quindi turno di battaglia numero 4 le unità in riserva non sono ancora state portate fuori dal segnalino quindi sono ancora in riserva ecco che queste vengono distrutte quindi bisogna tener conto che si hanno massimo 3 turni di movimento per poter far uscire e poter giocare queste unità altrimenti verranno distrutte una cosa che è importante ricordare è che si può scegliere come andare a gestire questi obiettivi si può scegliere neanche di schierarne 0 ma si può arrivare fino al massimo di 4, 2 e 2 eventualmente la disposizione diventa molto importante perché a parte di dover stare attenti agli limiti scenici si può care esempio lungo la linea che è quella del proprio territorio da una parte e dall'altra per avere una concentrazione maggiore o altre opzioni quindi bisogna tenere considerazione che è molto strategico come tratto di battaglia ma va utilizzato coscientemente andando a capire dove andare a posizionare sul terreno effettivamente quelli che sono questi segnalini per poterli poi usare per le uscite o per altre funzioni quindi è importante ricordare questo e poi abbiamo il tratto di battaglia Locus of Sheish che permette qualora si ottenga un risultato non modificato quindi senza bonus né malus di 9 o più da parte di un'unità amica di Soulblight Revolos Wizards che tenta di appunto lanciare un incantesimo per quanto riguarda la sfera o dei Deathmages o dei Vampiri e per quanto riguarda queste due sfera di incantesimo invito ad andare a dare il focus sugli incantesimi che trovate nella playlist indicata ecco che se questo incantesimo non viene disperso perché ovviamente deve essere castato con successo e passare ecco che dopo che gli effetti di questo incantesimo sono stati risolti si può immediatamente risolvere gli effetti di quell'incantesimo per una seconda volta quindi è come se quel mago Vampiro o di altra natura ma comunque Soulblight Revolos di quanto riguarda Wizards ecco che è come se potesse lanciarlo due volte quindi implementando notevolmente la capacità magica che riesce a portare quindi sicuramente un ottimo tratto di battaglia da ricordarsi perché è in comune a tutte le dinastie o linee di sangue che si va a scegliere quindi è veramente molto utile e poi abbiamo il tratto di battaglia Deathless Minions ed ecco che questo è sempre venuto perché è veramente eccezionale ecco che ogni qualvolta noi allochiamo una ferita o una ferita mortale a un'unità amica di Soulblight Gravelords che sia totalmente entro 12 pollici da un'unità amica di Soulblight Gravelords Hero ma anche da un Gravesite quindi da uno di quei cimiteri che noi siamo andati a posizionare con i morti inquieti quindi con quel tratto di battaglia questo diventa veramente ottimo perché vuol dire che non siamo più vincolati soltanto agli eroi per poter beneficiare di questa sfera di influenza e di questo tratto di battaglia ma abbiamo anche i signori quindi permette di schierarli veramente in modo molto interessante e ecco che al suo più la ferita o la ferita mortale è negata quindi veramente un ottimo tratto di battaglia di cui ricordassi che si ha la funzionalità quindi veramente ottimo e poi abbiamo il tratto di battaglia Reanimated Horus che è praticamente un modo per riportare quella che era regola la paura dal vecchio Warhammer Fantasy aggiornato però a Egeo Sigma infatti possiamo sottrarre 1 alla caratteristica di disciplina delle unità nemiche qualora si trovino entro 6 pollici da un'unità amica di Soulblight Gravelords Deathwalkers o Soulblight Gravelords Deathratus e sottrarre invece 2 anziché 1 qualora l'unità nemica si trovi entro 6 pollici da 2 o più unità di Soulblight Gravelords Deathwalkers o Soulblight Gravelords Deathratus quindi questo vuol dire avere notevoli vantaggi perché vuol dire che la disciplina avversaria può diminuire fino a 2 nel caso appunto si giochino questi due tipi di keyword quindi coi The Walks e la Deathratus e quindi questo vuol dire anche dare notevoli malus perché può essere utile nel caso che si ricorra a abilità o altro che si basino sulla disciplina pensiamo ad esempio al soffio, l'urlo per quanto riguarda il taroghest o semplicemente qualora si vada a vincere un combattimento o si effettino delle ferite e quindi si devono fare poi dei test su con un'unità quindi avere una diminuzione sulla disciplina è notevole ma va anche ricordato che le unità con la keyword Death non soffrono da parte di questa abilità quindi nonostante non si applica alle unità che abbiano la keyword Death in ogni caso si applica a tutte le altre armate il che non è affatto male ed è un qualcosa che va sfruttato molto attentamente perché può essere estremamente utile e poi abbiamo trattato in battaglia Endless Legends che è cambiato rispetto a quello che abbiamo potuto vedere nel precedente Legends of Nagash Pathotome infatti non abbiamo più bisogno per esempio del generale attorno ed ecco che alla fine della propria fase di Pathoshock si conta il numero di unità nemiche che è stato distrutto durante quel turno quindi conta il turno e si tira un dado e si aggiunge al risultato il numero di unità distrutte nemiche quindi con il risultato 5+, che vi ricordo deve essere modificato con il numero di unità distrutte nemiche ecco che si seleziona un'unità amica che sia stata distrutta in precedenza di Sublight Gravelos Sanable Dead Walkers o Death Rattles e se lo si fa si crea un nuovo rimpiazzo come unità che abbia come numero di modelli il numero che sia pari a metà arrotondato per eccesso di quelli che sono i modelli dell'unità originaria e si può schierare questa unità in campo totalmente entro 12 pollici da uno dei segnalini che abbiamo creato con i morti e i requieti quindi Danco e Ted e a più di 9 pollici da unità nemiche quindi questo diventa veramente ottimo perché vi permette di recuperare un'unità quindi magari per andare dopo a controllare obiettivi per avere supporto ulteriore quindi è molto versatile però ricordatevi che in ogni caso queste vanno posizionate e ogni volta che queste unità vengono distrutte si possono riportare vita soltanto con metà degli effettivi inoltre è solo un'unità per turno che può essere recuperata quindi bisogna fare attenzione che si distruggano abbastanza unità nemiche ogni turno per poter eventualmente riportare una di queste unità che può essere soltanto delle Sunnable Death Walkers o Death Rattles in ogni caso rimane veramente ottimo come tratto di battaglia a livello strategico perché permette di adattare molto a quelle che sono le proprie necessità di unità da continuare a avere per poter giocare quindi veramente interessante e l'ultimo tratto di battaglia in comune è Death Invocation che permette all'inizio della propria fase Hero di selezionare un numero variegato di unità amiche di Soulblight Gravelos Sunnable quindi non si applica all'unità come i Blood Knights e i Varghese perché non hanno la keyword Sunnable e queste unità devono essere totalmente entro 12 pollici da un'unità amica di Soulblight Gravelos Hero e essere quindi soggetta alla Death Invocation il numero di unità di Soulblight Gravelos Sunnable che si può scegliere dipende dalle keyword che sono presenti sul worst goal di quelle Hero ecco che nel caso sia con la keyword Mortal che è fino a 4 nel caso sia con la keyword Vampire fino a 3 Death Mages fino a 2 e Death Rattle fino a 2 qualora l'eroe abbia più di una keyword ecco che si sceglie quale utilizzare quindi nel caso sia ad esempio si usi Manfred o Neferata si può scegliere di usare fino a 3 o fino a 4 e per ciascuna dell'unità che si è scelta si può curare fino a di 3 ferite allocate a quell'unità e se nessuna ferita è allocata a quell'unità si può far tornare all'unità un numero pari di modelli pari a un numero di cartistiche pari a di 3 ferite si separa per ogni unità il tiro quindi si tira separatamente e un'unità non può beneficiare da questa abilità più di una volta per turno quindi se si usa una volta non si può usare un altro eroe per fare la stessa cosa su con l'unità e in aggiunta un'unità un po' beneficiare di questa abilità è di rinvocazione di Slanish che è molto simile e quindi sarebbe un duplicato anche quella questo è molto importante da ricordare che è importante che quando si ritirano sui modelli deve essere ritirato sul modello completo quindi se pensiamo a un Black Knights ecco che soltanto nel qualora caso si tiri un tra o più questo potrà avere le ferite per riportare appunto in vita il modello intero in qualora caso invece si genere per esempio un 5 più come dado ecco che un modello potrà essere riportato ma la ferita in più andrà persa così come prima si cura e poi si riporta in vita i modelli questo è molto importante perché per esempio se si prendono dei Fail Bats loro che hanno tre ferite solo nel qualora caso si tiri un 5 più questi potranno essere fatto tornare come modello all'unità quindi è molto importante ricordarsi questa estensione perché è importante per capire come va gestito il tutto e poi abbiamo una nota di design molto importante per capire come andare a gestire i modelli che vengono fatti tornare dato che abbiamo abilità e incantesimi dei Sublight Cave Lords che permettono di far tornare modelli uccisi a un'unità ecco che noi quando facciamo ciò noi schieriamo questi modelli uno alla volta entro un pollice da un modello della propria unità che non era stato fatto già tornare in quella stessa fase quindi se noi facciamo tornare tutti i modelli nell'Aero Phase contano i modelli che erano all'inizio dell'Aero Phase prima di applicare queste abilità questi incantesimi però abbiamo anche delle eccezioni per esempio pensiamo agli Zombie Dead Walkers e agli Skeleton Defratos che vanno applicati in un'altra fase quindi possiamo usare quello che è successo nella fase Hero eventualmente tutto assieme ecco che noi comunque non possiamo far tornare modelli uccisi entro tre pollici da un'unità nemica a meno che l'unità stessa a cui facciamo tornare i modelli fosse già entro in quella stessa fase i tre pollici da un'unità nemica quindi noi non possiamo usare questo modo per far tornare i modelli per portarci direttamente di corpo a corpo quindi per entrare in questi tre pollici e quindi poter combattere quindi dobbiamo tenere conto di questa differenza perché è molto importante in quanto non ci permette di ottenere questo tipo di vantaggi quindi questa è una nota che ci permette di capire come andare a regolare effettivamente questi ritorni dei modelli e quindi questi sono i tre battaglie che sono patente in comune con tutte le alleanze che andremo a scegliere e bisogna ricordare che sono molto importanti ok una buona parte di essi è collegata all'avere unità con la keyword sunnable ma dobbiamo tenere in considerazione che sono importanti per capire come andare a gestire pensiamo semplicemente all'okus of sheish che è utile per i subred o pensiamo anche che non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo deathless minions perché è un'abilità che è essenziale per poter giocare la propria armata quindi dobbiamo ricordare che tutte queste regole questi tratti di battaglia sono un qualcosa che dobbiamo ricordare sono in comune e saranno una base fondante per la propria armata ad ogni modo dai no mod per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Danimo è tutto alla prossima grazie a tutti